Se sei qui, qualcosa non va. E l'inizio dell'anno nuovo è sicuramente l'occasione perfetta per migliorare le cose. Quindi oggi ti do dei consigli per migliorare la tua esperienza universitaria nel 2022. Ciao a tutti, io sono Arianna, studio medicina al quinto anno in Bicocca e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il passaggio da superiori ad università non è assolutamente semplice. Sono due ambienti completamente diversi e ambientarsi non è così automatico. E non parlo solo dei primi mesi del primo anno, ma parlo anche di quelli successivi. Se non si inizia a pensare in modo diverso e a porsi in modo diverso, la situazione non cambia. Quindi come fare per vivere un'esperienza universitaria positiva e serena? Ecco qualche consiglio basato sulla mia esperienza di 5 anni. Ricordo che ai miei primi anni non vivevo assolutamente bene l'università. È stato molto difficile adattarsi e ovviamente questo ha avuto ripercussioni sui miei voti. E assolutamente anche sulla mia vita. Perché vivere l'università con meno ansia, con meno angoscia, con più serenità è tutt'altra cosa. Quindi partiamo subito con i consigli. Primo consiglio, organizzazione. Lo avrete sentito ovunque, ve lo ripeto sempre, organizzazione. Se non siete organizzati è ovvio che poi arrivate all'ultimo, non sapete le cose per l'esame, allora andate in paranoia. Ragazzi, organizzatevi. Inizia un nuovo semestre, abbiate ben chiaro quali saranno gli esami che dovrete fare. Quando finiranno le lezioni, quando saranno gli appelli, quanti CFU hanno i vari esami, quanto sono grossi questi esami. Se sono scritti, se sono orali, come è strutturato l'esame. Insomma, informatevi su tutti i dettagli. Questo vi permetterà di organizzare meglio il vostro studio, perché ovviamente vi organizzate in modo diverso per un esame da 12 CFU, piuttosto che uno da 4 CFU, oppure ancora vi organizzerete in modo diverso per un esame orale, piuttosto che scritto a crocette. E se siete ben organizzati, conoscete tutto quello che dovete fare, potete mettere giù un buon piano di studio che vi porti sereni al vostro esame. E non che dovete fare tutte le cose di fretta l'ultima settimana. Secondo consiglio, sapersi adattare. Questa è una cosa che ho scoperto e sviluppato negli ultimi anni. Cosa vuol dire sapersi adattare? Vuol dire prendere quello che arriva e sapersi organizzare di conseguenza. Vi faccio un esempio concreto per farvi capire cosa intendo. Uno dei nostri professori, molto gentile, per questa sessione ha diviso un appello in tre date, in modo tale che ognuno possa scegliere quella che è più comoda per se stesso. La terza data è sovrapposta a un altro esame. Quindi viene spontaneo pensare che chi deve fare quell'altro esame non userà la terza data, ma se proprio vuole fare questo esame, userà la prima o la seconda data. Oppure, nel mio esempio, io partirò esattamente nel pomeriggio della prima data. Se riuscirò, lo farò la mattina. Altrimenti lo farò la terza data. Tanto se io mi preparo per la prima data, anche se parto, io ho ancora tutte le mie informazioni in testa. Certo, magari ripasserò qualcosina qualche giorno prima, però non mi cambia troppo la vita, non cambia i miei piani. Cosa è successo invece? È successo che è stato chiesto di spostare questa terza data. I professori, che già si erano dimostrati molto disponibili, probabilmente la sposteranno perché sono veramente gentili, però insomma si sono chiesti come è possibile che noi vi abbiamo dato la disponibilità di ben tre date e non riuscite a farvele andare bene. Capite bene che anche questi professori, quindi, non è che ci siano rimasti benissimo della nostra richiesta. Richiesta di corso, ovviamente, penso non condivisa da tutti. Perché? Perché loro ci hanno dato una grande disponibilità e noi non ce la siamo fatta andare bene. Quando assolutamente c'erano tutti i modi per farcelo andare bene. Quindi cos'è successo? Abbiamo passato tutto il pomeriggio a parlarne? C'era chi era d'accordo, chi no? Chi è andato un po' in panico perché, oh mio Dio, mi cambia tutta la sessione? Quando invece la soluzione era mettersi lì, prendere queste date e organizzarsi di conseguenza. Perché ribadisco, se uno si prepara per il 10, anche per gli altri giorni è pronto. Anzi, ha dei giorni in più. Questo era un esempio pratico per dirvi che se avete questa capacità di adattarvi, di prendere le cose come vengono e di sapervi organizzare con serenità di conseguenza, non vivrete nell'angoscia, nell'ansia che, oh mio Dio, vi cambia tutta la sessione. Perché non è vero. Poi, ovvio, bisogna andare a vedere il singolo caso, va bene. Però se imparate a organizzarvi, ad adattarvi, vivrete le sessioni con più serenità, meno ansia e le vivrete come ogni altro periodo dell'anno. E non come quei due mesi che vi fermano, vi bloccano e vi rovinano la vita. Terzo consiglio. Migliorate il vostro metodo di studio. Su questo tema vi ho già dato tantissimi consigli e tantissimi consigli arriveranno. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ma perché insisto così tanto sul metodo di studio? Perché quelli sono gli strumenti che vi aiutano a essere più sereni, più tranquilli, ad andare agli esami sapendo di sapere e quindi che vi permettono di non andare nel panico durante orali e scritti. Questo perché è molto semplice. Se sappiamo di sapere le cose, non andremo nel panico perché pensiamo di non saperle. Poi ovviamente ci sarà sempre quel qualcosina che non sapremo. Però se abbiamo un metodo di studio solido, ci siamo ben organizzati e abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, andiamo al nostro esame sereni, lo affrontiamo così com'è e diamo il meglio che possiamo. Quarto consiglio. All'università serve assolutamente equilibrio. Cosa vuol dire equilibrio? Vuol dire che l'università non deve diventare l'unica vostra ragione di vita. L'università è assolutamente importante. Al momento è una delle mie priorità nella vita perché comunque per me è molto importante costruirmi una carriera. E me la voglio costruire bene e come dico io. Però attenzione, ho anche altre priorità. E la più grande è assolutamente me stessa. Quindi mi devo prendere cura di me stessa perché se io non sto bene, non faccio bene e non vivo bene in università. Quindi dedico del tempo a me stessa, mi dedico alle mie passioni, mi dedico al relax. Decido di fare un viaggio in Lapponia tra slitte, motoslitte, aschi, renne durante la sessione. Perché sì, per me viaggiare è una grandissima valvola di sfogo. Per tutto lo stress lavorativo di studio dell'anno. Torno che sono rinata e anche se in quei giorni so che non potrò studiare, so che quando tornerò sarò carica mille. Quindi trovate il vostro equilibrio. Di sicuro anche se vivete serenamente la vostra vita universitaria, ci saranno dei momenti che vi stresseranno. E questi vanno ben equilibrati con quello che vi fa star bene. Quinto e ultimo consiglio. La terapia. Da ottobre ho iniziato un percorso con una psicologa che mi sta veramente aiutando molto. Diciamo che i miei più grandi problemi nella vita non sono legati all'università. Perché ho imparato a gestirla bene e a viverla serenamente. Però sicuramente potrebbe essere un percorso che può aiutare tantissimi di voi con la gestione dell'ansia, gli esami, con la gestione dello stress, con la gestione della vita in generale. Quindi io mi sto trovando talmente bene che voglio andare contro questa idea negativa che si ha della terapia. Perché secondo me tutti dovrebbero provarla almeno una volta nella vita. Perché tutti abbiamo delle cose da sistemare. Quindi non sentitevi giudicati perché non c'è assolutamente niente da giudicare. Non c'è niente di male e non potrà fare altro che aiutarvi. Detto questo io con i miei consigli ho finito. Lascia mi piace se questo video ti è tornato utile. E lascia anche un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Per voi sono piccole azioni che per me hanno un grande valore. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram dove pubblico contenuti ogni giorno. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.